Come ti chiede? Moira. Moira. Benissimo da Moira, no? Moira, perché c'è un esperimento di mentalismo. Non c'è tutto pezzato. Io sto solo per fare con una psiche. Per esempio, che è sano la psiche. C'è una nuova dimensione che mi sa. E non si imbattiamo le cose. Però aspetta. Io qui ho tutte carte delle nostre. Ma voglio che stessi essere contattati. Perché se non mi piace. In mezzo è regolato. Quindi c'è un po' di vita. Perché tu sei testimoni oculare. A chi si stesse da resistere. Per esempio. Ok. E' verrà un bel grande poeta. Ok. Ora. Che chi? Di questa carta. Non mi dà una carta da giocattura. Perché ti dà una carta da giocattura. Perché ti dà una carta da giocattura. Perché ti dà una carta da giocattura. Ti ricordo che sono. Ma non si. Sono po' di quadro. Un fio di piccolo. Un fio di piccolo. Un fio di piccolo. Le faccio vedere se lo voglio. Un quattro fio di. Quello che voglio. Un fio di quattro fio di. Quattro fio di sicuramente. Sì. Perfetto. E' una cosa strana. Che la prima carta. Esattamente una carta. Quattro mera. Ed è la sorella. Esatta. Della tua carta. Quattro mera. Sei d'accordo? Sì. Interessante questa cosa. Sì. Interessante che sotto. C'è insieme anche fiori. E ancora fiori. Sì. Come se in cui tu. Quattro. Tratti realmente. Di sicuro. Sì. E' una casualità. Un mazzo. Certo. E la tua carta. Sarà tenuta da quattro a parte. Sì. Sarà stormente. Da quattro a parte. Sì. Ora scoprire bene. Sì. Vediamo. Sì. Allora. 7. 49. 16. 39. Ah. Subito. 16. Sicura. 16. Io sto toccando mai le carte. No. Se ora tu prendi le carte di faccia. E conti la sedicesima carta. Ed è il quattro di te. E' un miracolo. Eh beh. Insomma. Tutto. Gira. Conti 16. Vai. Una. Una. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Quattro. Nove. Dieci. Quattro. Tre. 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 Quattro di fiori. Caspita. Datti una spezzina. È la cominta. Eh no. Diciamo che tu sei entrato in me. Ah. C'è ma quasi. Nel senso. Sei isolato. Certo. Voglio dire. Cioè. Se avessi detto il 49. Certo. Il 69. Bello. 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 Bravo. Ciao. Buongiorno. Ciao. Certo. Eh. Grazie. Grazie.